amici modellisti amici di Model on Passion benvenuti in questa eh seconda puntata di impariamo a leggere e interpretare i disegni modellistici questa volta concentrati in questa serie ovviamente sulla ben nota HMS Bellona e stiamo utilizzando quelli che sono i disegni della Corel modellismo come abbiamo già detto nella puntata precedente è possibile acquistare questo materiale sia attraverso il kit di assemblaggio eh in scala un accento della Corel della HMS Bellona oppure è possibile reperire soltanto i disegni e poi separatamente procurarsi tutto il materiale materiale che vedremo in questa puntata e vedremo anche nelle puntare eh successive questa serie rispetto alle altre come abbiamo detto è concentrata non tanto sulla costruzione del modello ma su come imparare a capire quello che ci sta scritto all'interno di questa tipologia di disegni per modellismo e saper interpretare e poi realizzare materialmente quello che noi vediamo scritto sui nostri fogli allora nella puntata di oggi andremo a vedere quelle che sono le fasi preliminari lo vedremo sotto due punti di di vista sia quello per quanto riguarda il kit di montaggio sia quello nel caso dell'autocostruzione nel momento in cui avete acquistato avete sotto mano soltanto i disegni allora se abbiamo acquistato la scatola di montaggio noi ci dovremmo trovare di fronte ad una plate cioè ad un foglio di compensato di millimetri 4 5 6 a seconda della del modello che abbiamo acquistato eh dove sono stati pretagliati quelle che sono la falsa chiglia e i pezzi legati alla falsa chiglia cioè praticamente quello che eh vi ho ingrandito all'interno di questi disegni la novità rispetto agli altri eh diciamo alle altre serie che in questa o in questo video vedremo tutti i disegni in formato digitalizzato allora eh la falsa chiglia se abbiamo acquistato il kit di montaggio della Corel già questa mh diciamo questo questa parte è pretagliata bisognerà soltanto andarla a eh disagomare dal dal plate di compensato o di legno eh e andarlo diciamo a lavorare in modo tale che spigoli o parti irregolari possano essere praticamente rimossi qualora invece non abbiamo sotto mano la la scatola di montaggio il kit ma abbiamo soltanto i disegni allora dobbiamo procurarci un foglio di compensato in genere per questo tipo di eh di modelli non supera mai non supera mai il 6 mm di spessore e successivamente come indicato appunto nelle istruzioni dobbiamo andare a riportare tutta la falsa chiglia sul foglio di compensato eh molti modellisti si trovano a stampare quello che eh è il pezzo che devono ritagliare lo devono lo vanno a incollare sul foglio di compensato e poi con un seghetto da traforo o manuale ed elettrico bisogna andare a seguire direttamente tutte le linee per ottenere di sagomare il pezzo voluto oppure possiamo attraverso per esempio della carta carbone o della carta copiativa andare a riportare il disegno sul legno stesso oppure in casi molto più complessi ma vi ripeto questo è un tipo di procedimento che in pochissimi fanno andare a riportare tramite calcolo matematico lo stesso disegno sul foglio di compensato eh quello che dobbiamo riportare ovviamente abbiamo detto è la falsa chiglia cioè tutto quello che si trova all'interno dell'area tratteggiata come vedremo eh tra pochissimo mentre dobbiamo lasciare da parte tutto quello che la parte esterna cioè quella che in realtà è la vera chiglia noi in questo caso lo chiameremo il bordo della chiglia quindi da una parte sia nel caso del della poppa sia in tutta la zona della chiglia del fondo sia quello della poppa che di centronave che di prua e poi tutto il giro di prua stesso una volta che abbiamo fatto questo con la falsa chiglia faremo la stessa identica cosa anche per le ordinate anche per le ordinate abbiamo il foglio con tutte le eh le ordinate belle disegnate oppure se abbiamo acquistato il kit abbiamo le ordinate già pretagliate in quel caso anche in questo caso le andiamo a disagomare e le andiamo a lavorare andiamo quindi a liberare dal legno che non ci serve mentre se abbiamo soltanto i disegni dobbiamo fare la stessa procedura che abbiamo fatto con la parte della falsa chiglia cioè dobbiamo andare a riportare sul foglio di compensato in questo caso può essere anche di 5 mm può essere anche di 4 mm perché nel caso dell'autocostruzione dipende fondamentalmente da voi quindi l'ordinata può essere di 4 mm di 5 mm di 6 mm ma anche di 7 di 8 mm cosa ovviamente eh deve essere modificato più l'ordinata è doppia e più nella zona non tanto della della zona centrale della nave quanto in quello della 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 prua e della poppa la rastrematura per formare l'angolo di guardabono deve essere ovviamente fatto in maniera più accentuato perché la quantità di legno da andare ad eliminare è molto più abbondante quindi nel caso in cui vi trovaste a meglio a lavorare con una costola un pochettino più più doppia io vi consiglio utilizzare un costolato molto più doppio nella zona di centro nave e man mano che vi muovete nella zona di prua nella zona di poppa quindi nelle deviate di andare a utilizzare un compensato o meglio ancora una tavoletta in legno quindi legno pieno legno massiccio più sottile nella zona di prua e di poppa qui abbiamo sempre tutte le ordinate già sistemate e numerate quindi sull'ordinata abbiamo il numero e in base a come indicato sulle istruzioni come vedremo nella prossima puntata dobbiamo andare a posizionarle in loco cioè esattamente sul modello prima di fare questo le liberiamo o le formiamo e se le abbiamo liberate dal kit lo andiamo generalmente a controllare se tutto esattamente liscio se non ci sono spigoli se invece avete fatto voi il taglio con un traforo manuale elettrico qui bisogna stare particolarmente attenti perché tutta la zona di bordo dell'ordinata per esempio qui se ne andiamo a prendere l'ordinata numero 11 numero 10 come potete ben vedere non deve presentare esternamente perché lì dobbiamo poi appoggiare tutto il tavolato del planking dello scafo della nave non deve presentare spigoli ma deve seguire esattamente quanto mostrato dal disegno questo perché perché non soltanto dobbiamo riprodurre quello che la silhouette della nave ma nello stesso tempo dobbiamo anche andare a posizionare le tavole se le tavole non presenteranno un adeguato e corretto modo di applicazione quest'ultime non si applicheranno bene allo scafo stesso e quindi alla fine del vostro lavoro troverete un tavolato un arriva un rivestimento dello scafo irregolare e quindi ovviamente questo è ben logico da pensare non può essere mai paragonato a quello originale adesso andiamo a vedere come poter andare a interpretare la parte della falsachiglia dunque se consideriamo il disegno precedente cioè quello appunto dove avevamo tutta la parte della falsachiglia in questo genere di modelli che in genere sono particolarmente grandi la chiglia può essere suddivisa in due parti una falsachiglia che in genere è incompensato oppure in legno pieno perché ovviamente nel momento in cui non avete acquistato il kit ma state voi realizzando l'imbarcazione potete acquistare qualsiasi tipo di tavolato l'importante che sia dello spessore specifico per 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 la per il modello per la scala del modello che lo ricordiamo per il bellona dell'ecmes bellona della core di scala 1 a 100 detto questo tutta la parte interna cioè alla parte interna del tratteggiato del disegno qui l'abbiamo riportato qui tutto ciò che all'interno la falsachiglia deve presentare questo tipo di struttura cioè degli incavi che permetteranno successivamente il montaggio e la messa in loco delle ordinate delle devate al centro a poppa e a prua della nave questo dovrà essere fatto in maniera diciamo certosina soprattutto nella parte più esterna cioè dove vedete appunto la linea tratteggiata questo perché perché in quel punto noi dovremmo andare a posizionare quello che andrà a simulare la vera chiglia dell'imbarcazione quindi in altri modelli più piccoli in genere questo è un unico pezzo ma in questo caso in vascelli così particolari in genere questo tipo di chiglia viene rappresentato in maniera diversa infatti se andiamo a vedere ecco quello che abbiamo scomposto dal disegno precedente questo è quello che andiamo ad ottenere per quanto riguarda la chiglia questo diciamo questo insieme di pezzi che nel caso in cui non facciamo del modellismo di arsenale può essere realizzato in un pezzo unico non necessariamente riproducendo quelle che sono diverse parti di cantiere di arsenale deve essere realizzato non incompensato ma deve essere realizzato in legno pieno oppure nel caso del kit andare a utilizzare i pezzi specificati per la realizzazione di questo tipo di prodotto questo dovrà essere applicata in maniera regolare alla falsa chiglia vedete nella parte tratteggiata toccherà come nel disegno di origine mentre tutta questa parte dovrà essere diciamo perfetta perché poi è la parte che fondamentalmente si vedrà mentre la falsa chiglia sarà letteralmente ricoperta questo tipo di lavoro deve essere fatto in maniera molto attenta un lavoro deve essere fatto in maniera con calma soprattutto per chi lavora per la prima volta questo tipo di di modello e in particolar modo la scelta e la cura delle bordature in lavorazione delle bordature è assolutamente fondamentale ritornando ora alla tavola numero 6 dell'HMS Belluna Corel oltre andare a disagomare la falsa chiglia la chiglia possiamo andare a disagomare anche le due basette vi faccio vedere quali sono eccole qui queste sono le due basette le due basette possono essere disagomate come esercitazione per aiutarvi anche a maneggiare il taglierino se è proprio il vostro primo modello anche se come abbiamo già detto precedentemente questo tipo di di modelli non dovrebbero mai essere i primi per un modellista non soltanto per il valore economico che hanno è un peccato andarli a rovinare ma anche per un discorso di divertimento perché insomma un modello così impegnativo con tante parti si parte con entusiasmo e poi piano piano l'entusiasmo va a scemare soprattutto in base alla difficoltà di alcune parti oltre andare a dissemblare ovviamente tutto questo andremo anche a dissemblare se abbiamo comprato il kit dal compensato in genere più piccolo di 0406 mm tutto quello che riguarda i ponti cioè esattamente il ponte di coperta quello centrale e poi anche i due ponti che si trovano a prua estrema l'altro ponte di coperta e poi il ponte del giardinetto con la parte più estrema della della poppa tutto questo verrà dissagomato come abbiamo detto prima e verrà anche nello stesso tempo ben limato con la carta vetrata mi raccomando estremamente fine perché la carta vetrata enorme per questo tipo di legno vi può creare delle piccole schegge e quindi come tale rovinare quello che è la base una versione diciamo più avvantaggiata può andare il modellista anche a non utilizzare questo tipo di base per la realizzazione del ponte una volta che abbiamo preparato tutti i pezzi li abbiamo scartavetrati per renderli lisci e regolari li andiamo ad appoggiare su ogni singolo pezzo verifichiamo che tutto corrisponde a quanto posto in disegno e siamo quindi pronti a iniziare la seconda parte con il secondo video grazie a tutti amici modellisti di averci seguito in questa prima puntata di impariamo a leggere interpretare i disegni bellona ci vediamo nella prossima con l'assemblaggio della chiglia ciao a tutti